Vediamo un primo esercizio. Siamo nel caso di un torchio idraulico e dobbiamo calcolare il volume della forza F2 che riesci a trasmettere applicando una forza F1 di intensità 20 N con le due sezioni rispettivamente S1 che ha un diametro di 1 di 2,5 cm e S2 con un diametro 2 di 15 cm. Disegniamo il nostro torchio idraulico. Qui abbiamo i dati, quindi abbiamo F1 di 20 N, di 1 2,5 cm lo trasformiamo in metri, di 2,15 cm lo trasformiamo in metri, dobbiamo trovare la F2, la forza che viene esercitata sulla superficie S2. Quindi noi spingiamo sul pistone S1 e otteniamo anche una forza F2 al contrario. Calcoliamo la superficie delle due sezioni. S1 è dato da pi greco R1 quadro. Noi conosciamo il diametro, quindi abbiamo pi greco per il diametro 1 fratto 2 al quadrato. Sostituiamo i dati che abbiamo, quindi pi greca quarti per di 1 al quadrato, otteniamo come risultato numerico 4,91 cm al quadrato. Trasformiamo in metri, quindi abbiamo 4,91 per 10 alla meno 4 metri al quadrato. La stessa cosa facciamo per calcolare la superficie S2 utilizzando ovviamente il diametro 2. Stessa formula, otteniamo quindi il nostro pi greca quarti per di 2 al quadrato. Il risultato questa volta è di 177 cm quadrati o 177 per 10 alla meno 4 metri al quadrato. A questo punto utilizziamo il principio di Pascal. Quindi possiamo scrivere F1 fratto S1 uguale a F2 fratto S2. Andiamo quindi a vedere, io conosco F1, S1, S2, posso ricavare la nostra F2. Come la ricavo? F2 sarà data da che cosa? Dal prodotto F1 fratto S1 per la superficie S2. Andiamo a sostituire tutti i valori che abbiamo. Quindi a numeratore 20, che è la forza in newton, a denominatore il 4,91 per 10 alla meno 4 e 177 per 10 alla meno 4. Tutto questo mi darà newton. Semplifico, 10 alla meno 4, ottengo come valore finale circa 720 newton. Perfetto ragazzi, secondo esercizio. Sempre torchio idraulico. L'area del pistone A sia un quarto di quella del pistone B. Le domande sono due. Se si esercita sul pistone A una forza di 800 newton, quale forza si trasmette al pistone B? Seconda domanda. Quale forza invece occorre esercitare sul pistone A affinché su B si trasmetta una forza di 6.000 newton? Soluzione. Iniziamo con la A. Io so che A è un quarto di B. Usiamo il principio di Pascal. Usiamo la nostra formula dove andiamo a sostituire ASA un quarto B. Mentre al posto della nostra SB manteniamo B come superficie, come se fosse data. Quello che abbiamo qui è la proporzionalità tra le due superfici. A questo punto dobbiamo, nel caso A, ricavare la nostra FB. Quindi FB è uguale a che cosa? La frazione FA fratto un quarto B moltiplicata per la superficie B. Si semplificano. Mi rimane la forza FA fratto un quarto, cioè 4 per FA, quindi 4 per 800 newton, ottengo 3.200 newton. Risposta B. Ho la stessa identica formula. Questa volta però io voglio sapere quale forza occorre esercitare su A, quindi voglio trovare la FA, quindi sarà uguale a FB fratto il nostro B per un quarto B. Si semplifica, ottengo un quarto FB e vuol dire un quarto per i nostri 6.000 newton, quindi otteniamo 1.500 newton. Ultimo esercizio ragazzi. In questo terzo esercizio abbiamo il peso di un ippopotamo che viene equilibrato con un torchio idraulico da un uomo che ha una massa di 82 kg. Quindi se la superficie del pistone su cui si trova l'uomo è di 0,770 m² e la superficie S2 su cui si trova l'ippopotamo è di 13,2 m², qual è la massa dell'ippopotamo? Questa è la situazione. I dati quali sono? Facciamo M piccolo e M grande. Questa su cui sta l'uomo è la superficie 1, questa su cui si trova l'ippopotamo è la superficie 2. Noi conosciamo la massa dell'uomo, 82 kg, conosciamo la superficie S1 che è uguale a 0,770 m² e la S2 che invece vale 13,2 m². Quello che voglio trovare è la M grande, cioè la massa del nostro ippopotamo. Noi vogliamo usare il principio di Pascal. Riscriviamo per memorizzare qua la formula, dove vediamo che i protagonisti sono 4 e io conosco S1 e S2. Dobbiamo trovare le nostre due forze, noi abbiamo solo le masse. Di che forza si tratta? Noi qui dobbiamo avere come forze le forze peso, la forza peso dell'uomo F1 e F2 la forza peso dell'ippopotamo. Vediamo lo svolgimento. Calcoliamo quindi F1, è la massa dell'uomo per l'accelerazione di gravità. Quindi abbiamo il nostro 804,42 N come F1. Calcoliamo adesso che cosa? La nostra F2. La nostra F2 sarà data dalla formula di Pascal come F1 fratto S1 per S2. Ricaviamo F2 come 804,42 fratto la nostra superficie 0,770 per 13,2 N. Quindi otteniamo una F2 di 13.790 N. Io però voglio la massa dell'ippopotamo, quindi divido la F2 trovata, che è una forza peso, per l'accelerazione di gravità, 9,81. Otteniamo il risultato in chilogrammi ed esattamente troviamo che il peso dell'ippopotamo, anzi la massa, è di 1.405 kg. Perfetto ragazzi, spero che sia tutto chiaro, esercitatevi, scrivetemi se non avete capito, vi lascio il link della teoria in descrizione, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e intanto vi auguro buona fisica a tutti!